La verità su quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre in cui hanno perso la vita 21 persone sta mano a mano venendo a galla. L'accertamento tecnico sul mezzo ha rilevato che lo sterzo era rotto, proprio come avevamo mostrato più volte nei nostri servizi attraverso immagini inequivocabili. Si sta delineando lentamente delle verità, credo, importanti. Uno, che l'autista non stava male e che qualche problema a questo mezzo ce l'aveva. In realtà la perizia è ancora in corso. Fondamentale sarà capire in quale momento preciso si sia rotto lo sterzo, elemento determinante per l'inchiesta. I periti, infatti, dovrebbero essere in grado di ricostruire nei dettagli la cronologia del guasto grazie a un'analisi al microscopio dei frammenti della rottura. Tra le ipotesi possibili, lo sterzo potrebbe essersi rotto prima dell'incidente, dopo l'impatto oppure dopo la caduta. Se fosse confermato il primo caso, l'anomalia allo sterzo sarebbe la causa principale della tragedia, ma al momento non si possono scartare le altre due ipotesi. Se emerge che fin dall'inizio lo sterzo è saltato e altre cose sono saltate in questo mezzo, cambia la versione della vicenda. Infatti noi ci auguriamo che la procura continui nel suo corretto lavoro di analisi, avendo affidato le valutazioni a dei super esperti, e siamo ovviamente nell'ansia di attendere l'esito. Proprio ai nostri microfoni, un ex dipendente della linea aveva dichiarato di anomalie presenti sullo sterzo dei mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. Questione di poche settimane, i verdetti degli esperti nominati dalla procura su meccanica del mezzo tenuta strutturale del cavalcavia e scatole nere dovrebbero essere depositati. Intanto sulla possibilità di un malore dell'autista, il quarantenne Rizzotto, ci sono due visioni. Quella del medico legale Viel, che sostiene sia morto per il trauma cranico riportato nella caduta, e il secondo parere della cardiologa Basso, che si sofferma invece sulla patologia coronarica dell'uomo, che avrebbe potuto tradursi in malori cardiaci. Un contrasto di perizie che la difesa dell'azienda di trasporto vuole approfondire. Grazie.